Amici di tanta salute, una buona serata a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento dedicato alla medicina, al benessere fisico. Io do subito il benvenuto al dottor Franco. Ciao Nathalie, buonasera agli amici a casa. Allora, partiamo da un argomento che insomma in questi mesi l'ha fatta molto arrabbi. E allora, capiamo bene di che cosa si tratta. Sono tranquillissimo. Si è arrivati in aula del Parlamento. Tu facendo il tuo lavoro di... ...di che cos'è l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani. Ma attenzione, è un'associazione privata di dentisti, non rappresenta tutti i dentisti. L'ha chiesto di modificare il disegno di legge sulla concorrenza. Che non sia di privati, cioè di gente non... Comporta. Ma questo comporta, secondo me, prima che arrivassero le catene odontoiate, le catene hanno messo in piedi questo genere di... Un'azione, secondo me, buona, ma non è importante. La prima domanda, ma non è un attacco a Landi, ma Landi dov'era in quel momento? Quale offerte a otturazione? Non bisognava intervenire. Qui, finalmente, finalmente, e forse ne sono... Era stato da l'Agicom, che non mi ricordo più che cos'è, comunque è una mezza parolaccia. No, dottore, faccia il bravo, eh! Che questo disastro, questo degrado commerciale, era difficile trovare un sinonimo... Però ce l'ha fatta, ha visto. Che questo degrado commerciale... Ma ci sono i mezzi, le forze per controllare, dottore? Beh, beh, non... Tranquillamente. E già uno si deve insospettire da un prezzo... Ma vai a comprarti gli impianti, la mia cliente compra impianti. L'autodiagnosi di quello che si fa, il preventivo economico... E anche quello è il prezzo finale. E qui, grazie che me lo avete ricordato, ma siamo sempre, al solito... Tanta salute chiaccia a telelombardia.it, sono interessati al costo finale dell'intervento, dell'impianto, però, l'abbiamo sempre detto, dovete rivolgervi direttamente a informazioni, diamo consigli su come affrontare determinate situazioni del paziente. Guarda, Nathalie, facciamo... Incontra le esigenze del paziente. Io non... Routine come l'Attac, per vedere com'è in questo... Siamo dispostissimi, e se c'è da fare un uisce, certo. Ma certo, siamo dispostissimi a venire incontro alla gente, ma non siamo disposti a scendere... Corre delle domande al centro implantologico milanese, in particolar modo al dottor Franco Manca, a telelombardia.it, oppure telefonate direttamente in redazione 023935. E visto che non mi sono arrabbiato? No, è stato un volaccio, però si è stoppato al volo. Grazie, dottor Franco, ci vediamo tra pochissimo noi. Rieccoci nuovamente nel salotto di Tanta Salute, per dare il benvenuto a Lorena Marseglia. Ciao, Lorena, come stai? Ciao, bene. Vivi a di Bruno, benvenuto Bruno. Ciao. Allora, Bruno ha fatto tanti chilometri per venire nello studio di Tanta Salute, non solo, per venire anche nel centro di tua testimonianza, la tua esperienza con Vivero Snella, e raccontarci quanti chili hai perso. Frequentando, mi dicevi, una volta a settimana? Una volta a settimana. A me non lo contiamo perché ci sono le feste. No, ma si è impiegato per perdere tutti questi chili. Tu hai fatto otto sedute di laser, al momento, bene o male, e nel centro Vivero Snella Medical. Come ti sei trovato? Non avrebbe capito che si può dimanferare tumori ad arricchire questo... L'iperproteica. Esatto, questo signore. Cui amo anche tutte e due, quindi... A parte che fanno meglio le farine integrali e poi riempiono di più. C'è senso... Sì, le farine bianche. Unitario, queste cellule tumorali, senza finire sotto i ferri, senza prendere pastiglie, con delle piccole, che oramai è un valore inestimabile, secondo me, proprio perché da noi si dimagrisce mangiando. Infatti, quando lui ha provato a fare delle diete epocaloriche, come ha smesso, ringrassava. Pubblicato su Corriere.it, che riguarda gli obesi, Lorena, perché... ...ricchi, la cosa drammatica di ragazzi. Pago un'ora e io mi chiedo, o ci fai, scusate, io sono molto... A me spiace per suo figlio, perché credo che avere un tumore recidivo per sei volte è un po' che vuole, vuole che gli vada a vedere il negozio, 150 metri. È già la terza, è già il terzo... ...dei pacchetti convenienti per tutte le esigenze delle... Sì. Che cosa ti ha spinto a rivolgerti a Vivere Snella? Le persone ci cercano al mese, poi la gente oggi, come oggi, si informa. Grazie a Bruno per essere stato qui con noi. Noi invece ci vediamo tra pochissimo, perché tanta salute. Continua. Vi aspetto. Bentornati in studio. Prosegue l'informazione di tanta salute, questa volta con Federpharma, che ci parlerà del ruolo delle farmacie nel nuovo sistema sociosanitario Lombardo. Lo facciamo con il dottor Santo Barreca. Saluto anche la dottoressa Barbara Gallo, consigliere Federpharma Milano. Nel 7 febbraio c'è stato un convegno molto importante per Federpharma. Ce ne può parlare? Porta di evoluzione della farmacia, in farmacia, nei servizi, no? Certo, perché già qualche anno fa... ...elettrocardiogrammi, oltre pressori. Esami che si possono addirittura prenotare in farmacia. Dottoressa Gallo, quali altre prenotazioni si possono fare in... ...hanno invece le campagne di screening, come quella contro il tumore e il colorretto. Elettronica in Lombardia, dottore? La ricetta elettronica in Lombardia è partita. Insomma, farmaci lombarde e promosse milanesi, che cosa hanno apprezzato? Vabbè, la sicurezza, il servizio di consulenza, assistenza, il fatto che siano aperte 7 giorni su 7. Questo è un ottimo risultato per Federpharma, ma soprattutto per l'utente finale. Io vi ringrazio, grazie per essere stato consiglieri Federpharma Milano. Noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Vi ricordo che se volete intervenire, se volete proporre degli argomenti a tanta salute, scrivete tanta salute a chiocciola telelombardia.it oppure chiamate in redazione 02393521. Ciao a tutti e alla prossima puntata. Grazie a tutti.